Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia della 152 Allora, si, che intro orrippile mamma mia Guardate ragazzi, guardate che buco gigante Allora, la trivella mi ha scavato questo 3x3 centrale, ha trapassato più o meno tutte le montagne E poi io mi sono divertito a rifarmi tutti i contorni, allargandolo un po' Perché ovviamente ragazzi, come vi ho detto, dobbiamo fare le pareti Non può rimanere così tutto aperto perché non ci devono essere ostacoli sulla ferrovia Ok, la trivella è arrivata fino a qui, e guardate un po', c'è una struttura strana intorno Sì, l'ho costruita io! Spacchiamo tanto la trivella Ok, via Eh, c'ho l'inventario pieno di schifezza, quindi non riesco a raccogliere Oh, dove vai tu? Oh, dove vai tu? Oh, 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 dove vai tu? Oh, oh, buono, facci piano Ok Come dicevo, mi sono costruito tutta questa mega struttura Sto arco non mi piace, vattene via Questa struttura che dovrà ospitare i macchinari che metterò in questa zona Perché questa zona l'ho costruita apposta per fare degli specifici, specifici macchinari No ragazzi, non è nulla di nuovo, purtroppo, non è nulla di nuovo Ma è solo uno smistamento accelerato di quello che io già possiedo Quindi andiamo a migliorare lo smistamento che ho in modo da risparmiare la lag Risparmiare lo spazio, liberare un po' casa Risparmiare la lag Laggare di meno, non laggare Oggi andare a scatti, basta andare a scatti, non ce la faccio più Insomma, questa qui è la soluzione ragazzi Ho creato questa struttura, come ho creato le farm di alberi, qui questa E serve ovviamente a dividere i macchinari in modo che la lagg sia ben distribuita In modo che non mi vada a scatti tutto il mondo Questa cosa è importantissima ragazzi La ricordo, in ogni serie ormai faccio sempre sta cosa In ogni serie ovviamente dove faccio roba pesante Ad esempio nella noia craft non l'ho fatto Perché non sto facendo roba pesante come qui c'è Qui ho appena cominciato ragazzi Non ho fatto praticamente nulla Io non so voi che idee avete del gioco di minecraft Non so se direte cosa... Non ho fatto niente Ho appena cominciato Sto a zero praticamente, proprio tabula rasa Quindi ho un sacco di lavoro da fare E se voi siete pazienti lo facciamo tutti insieme Allegramente Eeeh che bello, craftiamo altre cose Che palle craftare le cose Non ce la faccio più Soprattutto camminare su sta rotazione Vedo l'ora da arrivare con il carrello Ah, ce l'ho fatta Sì, comunque ragazzi Un ragazzo Un commento Una cosa unica Un uomo, un commento ragazzi Ha trovato il modo per Fixare questa cosa del bottone Che io volevo fixare in tutti i modi Non ci sono riuscito Che cacchio è appena tutto Come ho fatto a cliccare il bottone Senza scendere dal carrello What the fuck is going on? Ok ragazzi Con le modifiche che ho fatto alla railcraft A quanto pare È cambiato qualcosa nel mondo Raga, nel mondo è cambiato qualcosa Che cacchio è successo? Ok, intanto vediamo lì gli oggetti Che passano Ma zitta Valanghe di oggetti Che stanno intasando tutto l'impianto Non so cosa è successo ragazzi Adesso posso attivare il puzzante Da sopra il carrello Non me lo chiedete Non lo voglio sapere Guarda, mi riesco a non sapere Perché altrimenti spacco tutto Ok, è esploso qualcosa Qui È un po' un casino ragazzi Devo dare un attimo Una sistematina Almeno, perlomeno Un'occhiata all'impianto Perché è abbandonato Praticamente a se stesso No, li butta dentro No, che sta fa No, no, mi dirà Qua è solo la gomma Ecco, la gomma La sto consumando Praticamente tutta ragazzi La cesta della gomma Continua a riempirsi La gomma continua ad arrivare Porca paletta Rubberwood Ma non c'era la cesta Che accettava Rubberwood? Ehi, fefei Certo Rubberwood Come no? Ok ragazzi Direi che abbiamo Decisamente bisogno Di un bel po' Di questi affari qui ragazzi E un bel po' di celle Soprattutto perché Devo andare A centrifugarla Base E mettiamo la cesta Della qua Avete capito cosa ho fatto ragazzi? Mettendo il modulo All'interno della crafting Ci dà il modulo pulito Come se fosse stato Appena craftato E quindi non ha più Tutti i filtri Eccetera eccetera E può staccare con gli altri Altrimenti non stacca Però io sta gomma qua Non va per niente bene Lo sai Stutine qua Fini di estrae Ok, perfetto Facciamo così Item sink E mettiamo la gomma pure Non so che fare Non ho altre soluzioni Se non fermare la farm di alberi Potrei fermarla La fermerò Che devo fare? Un casino Il marmo sì Me ne avanza un botto Il query probabilmente Ne starà tirando fuori altro Che a me ovviamente Non serve Non so come rimediare A tutto questo bordello Che sta creando quel query E poi mi sta tirando fuori Tantissima sandstone Tantissimo tutto Mi si sta riempiendo tutto l'inventario E io ho un mega progetto in mente Per fare lo storage Ovviamente adesso Questo è tutto temporaneo ragazzi Questo mini storage Che so che c'è anche Che non si è caricato Questo mini storage Che ho creato qui Non è neanche lontanamente sufficiente A quello di cui ho bisogno Quindi dovremo vedere poi Come migliorerò La cosa Soprattutto per il fatto Che il diamante Sta finendo E non posso trasformare Tutto il diamante In quarzo ragazzi Ogni diamante È un quarzo Guarda qua Quarzo Quarzo Aspetta Fate vedere Lo sapete che voglio aumentare Il costo del quarzo? Perché Un diamante Mi sembra poco Vorrei mettere almeno Due diamanti Quindi metterò il diamante Al posto della plastica E metto la plastica Al centro Molto probabile ragazzi Perché un diamante È un quarzo È troppo economico Devo fare due diamanti Un quarzo Vabbè Questo è spesso a cosa mia Poi se lo faccio Vi faccio sapere Intanto questa continua A esplodere tutto Vabbè Che facciamo in questo video? Abbiamo costruito La nuova struttura E comincio a utilizzarla E cosa utilizzo? Questa roba qui dentro ragazzi Ho bisogno di fornaci Polverizer a go go Una valanga di fornaci Una valanga di polverizer Quanti reception coi l'ho? 22 Perfetto Verranno fuori i 22 fornaci Quindi co? What? Esatto ragazzi Ho 20 termalingot E non so quanto carbone Un bel po' Due, tre Però questo è karsch coal Non è coal Non confondiamo il karsch coal Con il coal Due Questo è karsch coal Anche questo No questo è coal Buono Faccio piano Che coal va lì Coal, 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 coal Perfetto Quattro pezzi di coal E Uno di ferro E andiamo subito a craftare Queste fornaci Ragazzi Ho bisogno di fornaci 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 Devo cuocere 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 Smeltare Smelting Poore il furnace E la mia domanda è La mia domanda è C'è una fornace più veloce Di quella che utilizziamo noi? Tadadà E qui viene il coso Allora Ci dovrebbe essere la Automatic No Ci dovrebbe essere questa L'Extreme Furnace Ragazzi Che è la migliore Che esiste Perché è extreme per un motivo Perché è extreme È una velocità disumana L'unica cosa che per craftarla Serve è l'ender heap L'ender heap Si crafta in questo modo Ragazzi Due gocchiacchime di ghast Due occhi di ender E una nether star Che non è un po' Facilissima da craftare Sinceramente La nether star Comunque bastano Tre test di guider Quattro soul Sendo un arc E una spada Alla fine Oddio Sì Può essere facile Tra molte virgolette Comunque sì È tosta Le fornace migliori Che posso fare Per adesso sono le power Che si fanno Qui termalingot Ovviamente tutti questi ragionamenti Che so fare Ragazzi Ve li faccio Per potervi Far rendere conto Di come gioco E alla fine Non sono realmente Utili al gioco Però Fare questi ragionamenti Mentre si gioca Ci aiuta A stabilire Poi o meno Una casa Poi o meno Quello che vogliamo fare Capito Insomma Anteso No Ma stiamo capiti Comunque aspettiamo Che cuoce termalingot E si mettiamo A craftare Ste fornace Ce l'avevo un po' De clay Avevo messo a cuoce pure La clay brick Sì Me ne servono altri Però quelli Non basta Non manco niente Sì ragazzi Ho compattato tutta la clay Per risparmere spazio Però adesso Devo spaccarla Con la pala Perché sono Devo fare così E Oh Abbastanza facile Ok ragazzi Ho raccolto Uno stack Di questi ingot Vediamo quanti Machine frame Escono fuori 16 Ok Non dico che crafterò 16 fornaci Ma I machine frame servono Perché ci possiamo fare anche i polverais Ragazzi Non solo le fornaci Parliamone Quindi non credo che andrò a fare 16 fornaci Perché poi smonterò anche queste Ovviamente Queste me le porto di là Io sto il tempo di Ultimare il tutto Oh Perfetto Mi servono ingranaggi di rame Me ne servono moooolti di più Direi proprio che non bastano E guarda che si parte da quello di stone E te pareva Ah che palle devo fare con il legno Con il ligneus Con il legno 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 Stick Beh effettivamente questa cesta è un po' piena Potrei anche farne un'altra Non sarebbe una cattiva idea Più che altro dividere la thermal Potrei fare la cesta thermal O comunque la cesta macchinaria Non sarebbe una cattiva idea C'è una cesta in avanzo Ecco c'è questa in ferro Scusami Eh almeno divido ragazzi No veramente Mi sta esplodendo l'inventario Cioè non è Non è possibile che ogni volta Ho dei problemi del genere Per craftare un paio di Di cacchiate della thermal Non è veramente possibile Che dividiamo Cominciamo a dividere l'inventario Perché è un casino Comunque Ho 4 ingranaggi di Di legno Mi serve anche la Cobblestone 1 2 3 4 5 6 7 8 Perfetto Ho fatto 2 stack Di ingranaggi di Cobblestone Voglio fare altri Eh si ragazzi Sto cominciando a ragionare a stack Però non ho ancora L'autocraft Che mi permette di craftare Tutta questa roba stack Sì Lo so l'autocraft Della logistics Sì lo so Le request E facciamo tutto Con calma Adesso io ho bisogno Di sistemare lo smistamento Smistamento e immagazzinamento Poi facciamo tutto L'autocraft Che vi pare Non mi frega proprio niente Però intanto Sistemiamo queste situazioni Perché io non voglio Che la chest centrale Qui Quicksortata Questa qui che è Quicksortata Esploda Perché deve essere sempre pulita Nel momento in cui So sicuro che riesce a reggere Qualunque ondata di materiali Facciamo 8 fornaci Dovrebbero bastare Un bel po' Di queste Me ne porto via Un bel po' Porto via Tutte queste Di questa fila Va Via Tutte a casa Stacca qua Stacca qua Via Un attimo Me ne sto portando via Una marea Queste sono altre 15 15 basta Ne avanzano Ok Queste 15 fornaci Ragazzi Ci serviranno Per fare la stessa cosa Qui Però Di là Quindi dovrò portarmi Anche un tesseract Che porti energia Un tesseract Che porti oggetti Quindi adesso Anzi Dato che mi hai riempito I tubi che lasciai L'altra volta E anzi Questi tubi li vado subito A collegare da nessuna parte Perché sapete che faccio Riempio altri tubi Di redstone Perché così ce li ho Perché mi servono Vai uno stack di redstone Vai vai Qua c'è una cosa C'è anzi una di meno Perché me ne è entrata una in più Eh non voglio Non voglio lasciare Il liquido sprecato qua dentro Ragazzi Voglio utilizzarlo tutto Ok lasciamo Lasciamo riempire quei tubi E poi Sapete che faccio Riempio anche se da stack frame Dammi un enderpearl Enderpearl Le duplico Dov'è il problema Enderpearl Duplicate Quanto le sono uscite Due non basta Noi facciamo l'arte Dov'è il problema Andiamo qui Guardate guardate qui Serve roba Ecco Rubber Vai Energia Vai fammi altri enderpearl Vai Un po' lento Però si Dai Fate tre Dai a prossima Su dammi un'altra gomma Questo ce l'ho Dov'è il problema Ok ragazzi Io metto qui un po' A duplicare perché almeno Mi diverto un po' Perfetto ragazzi Ho quattro Un attune tesseract Che andremo per Che utilizzeremo per craftare I prossimi tesseract Che saranno Scusate Stavo detto la leggissima Stavo verificando delle cose Che potrebbero essere Molto simpatiche Dovremmo craftare Altri energy tesseract Perché dobbiamo collegare Praticamente La La zona dei boiler Perché adesso ragazzi Il boiler si sarà scaddato Sarà arrivato a temperatura Quindi devo andare a aggiungere Gli engine Devo andare dalla zona dei boiler A la nuova zona Che ho creato Perché adesso farò una distribuzione Di tesseract E' ancora complicato Da spiegare così Però ve lo spiego poi Allora vi faccio vedere Ad esempio Tesseract che va Alla farm di alberi C'è Eccolo qui Dammelo Sei mio Vieni via con me E questo se ne va via con me Questo dove va? Al query Anche lui Anche lui se ne va via con me Tu dici Sander che cazzo sta facendo Ti porti via di tesser Non parte Il query non gira più Sì purtroppo ragazzi Devo portarli via Perché devo andare alla zona dei boiler A piazzare i nuovi engine Lo so Adesso L'ho già piazzato Eh l'ho già piazzato Off camera Sì raga Porca paletta No è vero Mi sono dimenticato Ragazzi Io gli engine Li ho piazzati off camera E non li ho attaccato tutti i tubi Però mi ricordo Qualcosa non ho fatto Non mi ricordo cosa Qualcosa devo sistemare Comunque Non mi ricordo Perché ho detto Vado ai boiler Poi nel prossimo video Non mi ricordo per fare cosa Però ho detto Che lo facevo off camera Però qualcosa non l'ho fatto Che devo far vedere Ma caghera Boh Vabbè E dobbiamo andare alla zona Tesseract E la zona E boiler E ripiazzare questi nuovi Tesseract In particolare Devo craftarne altri Perché mi servono Crafting Mi serve redstone Conduct Tanks Coil Come cacchio Si chiama Dov'è l'electrum Electrum Vieni qui Ok Electrum è redstone Giusto Perfetto ragazzi Ecco qui 4 Energy Tesseract Ora ne ho addirittura 8 ragazzi Sono strapieno Di Energy Tesseract Si ho utilizzato Tutte queste Enderper E' vero Forse ho sbagliato Perché me ne serviranno Molte altre nel prossimo episodio Per convente di fare una cosa Che Non vi dico Non vi spoiler Che utilizzerà Un po' di Enderper Ma non troppe Sarà più o meno Un risparmio Si può dire Perché invece di utilizzarne 8 Ne useremo solo 3 Vuol dire Di cosa parli E poi vi farò vedere Nel prossimo video Non è un problema Ma ho già in mente Una bella cosettina Comunque intanto Vado alla zona E cominciamo Ad assemblare il tutto Che cacchia è successo Ma vaffan Non è possibile C'era un cazzo Di maiale Sulla rotaia C'era un maiale Ragazzi C'era un maiale Sulla rotaia E' esploso il maiale E' esploso io Il maiale Il carrello Tutto No Non ho parole Andare a piedi Non ho parole Il maiale Devo chiudere tutto Qui il prima possibile E' esploso il maiale E' esploso il carrello Col maiale What the fuck Hai visto che buco Nel terreno Vabbè Siamo arrivati In boiler Eccoci qua Ok Ho collegato tutto Tranne i Tesseract Perfetto Oh E sparisci Allora Come colleghiamo I nostri Tesseract Vi ho detto Che ogni Tesseract Porta 100 E ogni boiler Qui dietro di me Sta producendo 144 Quindi in totale Sono 144 Più 144 288 In teoria Poi non so se mi sbaglio E devo Ah ecco che cacchio Mi sono dimenticato Mannaggia Mecchino Me lo dice Però posso rimediare subito Qui Rimediare due pezzi di legno Le cose Le leve Per accendere Ecco che non mi sono portato Le leve Prendiamo un pezzetto di legno Ok Due pezzi di cobblestone Due stick Facciamo due belle leve E le andiamo subito a mettere Una qui Online E una qui Online Tutti i motori online Massima potenza 8 Ma che cacciao L'uno Allora Adesso che tutti i generatori Sono online E sto generando Un casino di energia Devo cominciare a mettere i Tesseract Ovviamente Mi metto temporaneamente in fila Qui Poi farò una Una casetta Esterna Apposta Dove mi metterò tutti in fila Perché questo tubo Come vi ho detto Porta fino a 1000 Adesso stiamo portando 300 Circa Quindi non è un problema Oggi a te Possiamo mettere altri Altri 4 boiler La cosa mi intriga molto Altri 4 boiler Ragazzi Preparatevi Altri 4 boiler Così in arrivo Allora Quelli preimpostati Sono quelli con un X under cage Eccolo qui Quindi questo X under cage Giusto C'è questo X under cage Giusto Sì E questo X under cage Perfetto Ok Noi abbiamo tolto alberi E glielo ridiamo subito E stavolta ragazzi E questo valquare Riporta 100 Fatima ragazzi 300 megajowl per tic E aggiungiamo un altro Che almeno l'energia Se la dividono come vogliono Non è un problema Quindi faranno che ne so 60 60 60 60 60 6 12 240 70 Anzi 7 7 7 7 Se la dividono come vogliono E metto la nuova frequenza Che sarà Non più il 31 Ma il 41 Che è Fornashi No Smistamento Specifico Thermal Perché se è la zona della Thermal Vabbè alla fine L'industria craft non utilizza questa energia Sì no Smistamento Thermal Aggiungi Ok E questo smistamento Thermal 1 Voglio specificare 1 E allora smistamento Thermal Facciamo un nome più QFH Smistamento QFH No QFH No Smistamento Ah Ah QFH Perfetto Perfetto Mi piace Alberi 1 Perfetto Casa 1 Niente Niente di meglio Posso chiedere Ok Ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video Dove andremo a fare queste cose Che vi ho detto Che non vi ho spoilerato Ciao a tutti Al prossimo video Bella Un'altra Voglio